Gerardo e io ci conosciamo, come disse lui la prima volta, da due vite, gli altri due mi perdoneranno, gli cedo il ruolo di gestore della cosa per i primi dieci minuti, mentre io traffico con l'aggeggio per cercare di collegare il dottor Starace. C'era anche un piccolo piano, il tema era di concentrarsi sul pleno della salute mentale, per però guardarlo, se volete, dal punto di vista sociale o culturale, come esempio del funzionamento di un sistema sanitario pubblico-privato, molto pubblico in questo caso, un po' di privato, e quindi si era pensato di partire da una prima riflessione sull'impatto della cosiddetta legge basaglia, non tanto sugli aspetti, chiamiamoli teorici o culturali o strettamente tecnici, della psichiatria, della maniera in cui interpretiamo o meno la condizione di malato mentale, ma sulle forme, le modalità e i risultati con cui l'istituzione medica, chiamiamola così, il complesso di persone e di strumenti che gestiscono la malattia, l'hanno gestita e come l'hanno gestita differentemente. Vale la pena notare poi che alla fine la legge basaglia che è del 78, giusto, venne approvata pochissimo, tra l'altro non è una legge basaglia perché chi la scrisse era un democristiano Orsini, vero? Esatto, ero lo stesso uno psichiatra ma era da DC, mentre il buon Franco come a Gerardo e io ricordiamo era del PC. Beh no, fuori l'ho anche iscritto Franco, ma comunque importa, o era oltre, in the night, vabbè. No, la cosa interessante è che in realtà poi la legge venne, non mi ricordo più il termine tecnico che si usa in giurisprudenza, incorporata di fatto nella riforma del Servizio Sanitario Nazionale che venne approvato meno di un anno dopo, pochi mesi dopo. Esattamente, quindi la legge in realtà che modificava il servizio psichiatrico e aboliva i manicomi era nient'altro che un anticipo di quello che poi venne fatto. Quindi con questo stimolo io darei la parola a voi tre per sentire un po' una prima valutazione e da lì poi proviamo ad andare avanti a riflettere su cosa questo implica. Buongiorno a tutti, io non ero preparato a fare questa cosa, quindi abbiate pazienza, grazie per essere qui, vi vedo numerosi, attenti e vogliosi in un contesto in cui la salute mentale c'entra un pochettino, c'entra e non c'entra, insomma, ecco. E quindi sono certo che il fatto che siate qui vuol dire che c'è una motivazione, un interesse su questo argomento. Come ha detto Michele, il ragionamento sulla salute mentale e sulla psichiatria in generale ha a che fare con tantissime cose, con tantissimi argomenti. L'esperienza italiana, prima di tutto, che è un'esperienza particolare, a tutt'oggi l'unica al mondo, il 1978 fu un anno di grandi riforme, non ci fu solo la riforma sanitaria, l'istituzione del servizio sanitario nazionale, ci fu appunto la legge sull'introduzione di gravidanza, ci fu la 180, quindi fu un anno in cui cambiarono tantissime cose. La legge 180, che appunto non è la legge basaglia, è scorrettamente chiamata legge basaglia, ma fu una legge che si realizzò per evitare un referendum che il partito radicale allora aveva indetto sull'abolizione dell'assistenza psichiatrica, che avrebbe significato lasciare il paese senza nessuna legislazione, cosa che forse alcuni avrebbero anche preferito da certi punti di vista, di fatto portò a una convergenza anche frettolosa, se vogliamo, da parte di tante componenti, che trovarono una mediazione e scrissola appunto nel maggio del 1978 alla legge 180. Che cosa dice la legge? Dice poche cose ma chiare, dice non si può più ricoverare le persone in manicomio, non si possono, le persone, tutti i trattamenti sanitari sono di norma trattamenti volontari, possono essere obbligati a curarsi le persone e solo ed esclusivamente appunto nei casi previsti dalla legge, la legge sono io e dico le condizioni nelle quali le persone devono curarsi. Lo sapete probabilmente, alcuni di voi lo sanno, fino al 1978 tutte le persone che venivano curate per motivi legati ai disturbi mentali lo venivano perché erano considerate pericolose a sé gli altri, fino al 1968 in realtà poi questa norma fu di fatto affievolita, nel 1978 cambiò completamente la prospettiva, non si veniva più ricoverati obbligatoriamente perché pericolosi a sé gli altri ma perché si aveva bisogno di cure e li si rifiutava. Questo capite che è una prospettiva che così io chiamo quella dei trattamenti senza consenso che è una prospettiva molto ampia, molto complessa e che non riguarda solo la salute mentale, riguarda in generale tutto ciò che ha a che fare appunto con l'obbligo che poi l'individuo ha nei confronti della collettività nel suo complesso. Allora, eravamo partiti da quest'idea, cioè che cosa è stata in questi 40 anni, cosa ha cambiato per la cultura e per la civiltà del nostro Paese questo tipo di esperienza. Ci siamo anche chiesti appunto quali sono le tematiche che in fondo sono ancora aperte, ce ne sono tante, va sottolineato che la salute mentale nel 1978 è stata una sorta di locomotiva trainante rispetto al pensiero dell'organizzazione dei servizi per la salute. Nel senso che chiudere i manicomi, aprire i servizi sul territorio, ha significato trovare dei modelli, cercare dei modelli di assistenza alle persone e quindi di cura e quindi di riabilitazione che per quanto difficili, poco realizzate, penalizzati dal punto di vista delle risorse e tutto quello che volete, hanno significato dal punto di vista della cultura e della ricerca e dell'epidemiologia e della valutazione dell'efficacia degli interventi, moltissimo, anche se poi questo moltissimo nel nostro Paese è stato valorizzato fino a un certo punto perché non sempre ha trovato teste disponibili a raccogliere e ad elaborare questo moltissimo. Quindi partiamo da qua, insomma siamo partiti da qua con l'idea da questo punto, in realtà fu proprio la prima conversazione, ricordo che facemmo. L'idea appunto era di invitare delle persone che portassero anche una loro riflessione, Paolo Peloso che qui alla mia sinistra ha molte qualità, delle quali non vi parlo anche perché sono sue personali, poi anche i difetti, ma ha molte qualità, però queste qualità io lo considero forse il più importante storico della psichiatria che noi abbiamo oggi in Italia, nel senso che è una persona che ha una conoscenza della storia della psichiatria veramente molto dettagliata. Quando poi si studia la storia, lo sapete, vengono fuori i problemi dell'oggi e non si può mai fare la storia in maniera neutra perché poi si fanno a leggere i cambiamenti, i percorsi, i processi e quindi è per questo che mi faceva piacere invitarlo. Fabrizio Starazze che se riusciamo a collegarci. Sì, benissimo. Ce lo metto qui, piccolino, ma ricordo un po', non so, per lui Don Giovanni, un invitato di plastica. Eccolo lì, eccolo lì. Siccome non mi conosco, mentre conosco, sicuramente sia Gerardo che, mi faccio capire che è di famiglia. Ciao Fabrizio, ciao. Ti stavo giusto presentando, ho appena presentato Paolo Peloso, dicendo che dal punto di vista della storia della psichiatria è sicuramente il più competente che abbiamo in questo momento in Italia, insomma a parte, dicevo, tante altre sue qualità, soprattutto alimentari, come si vede insomma dalla stazza. Più farabutto che non so, non ho idea. Poi ci sono io, poi c'è Umberto Rosso che è un giovane medico torinese che è qui per condividere con noi le riflessioni. Abbiamo già presentato una breve riflessione sulla 180, quello che ha significato non solo 40 anni fa ma che continua significare da un punto di vista dell'accumulo di esperienza, di conoscenze, di dati, di elementi. Poi appunto c'è Fabrizio Starace che dirige il Dipartimento di Salute Mentale di Modena, è Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, quindi è un psichiatra ma anche epidemiologo, è membro anche del Consiglio Superiore di Sanità, recentemente nominato, quindi insomma è una persona che è lì seduto sulla sedia subspecie computer e questa è la situazione. A questo punto io ti ridò il microfono, mi pare seduto calmo. Allora abbiamo iniziato a parlare, calmo no. Data anche le circostanze cercherò di fare meno, a parte le battute per disingessare la cosa. Abbiamo introdotto la questione, Gerardo ha dato una breve survey della situazione 78 e post, io farei una cosa così, dare la parola a Peloso perché nella sua natura di storico se ci fai un escursus che ci porta i giorni nostri e poi sentiamo il nostro giovane Umberto, scusami Umberto se ti do del giovane però effettivamente in questo gruppo lo sei, uno fa fatica a ammetterlo però lo è e poi sentiamo Fabrizio e poi continuiamo, cerchiamo di stare, vediamo, abbiamo iniziato con circa dieci minuti di ritardo, finiremo con dieci minuti di ritardo, ne sono passati dieci, quindi se ognuno di noi sta tra i sette e i dieci, io sono uno maleducatissimo che avete visto, quindi io interrompo, dico guarda, devi smettere, quindi regolatevi ma io vi interromperò. Sì, grazie intanto dell'invito, ma io partirei dalla provocazione iniziale, psichiatria ed economia, che cosa c'entrano tra loro? In effetti abbiamo parlato della legge 180, la legge giustamente detta legge Basaglia perché è la legge che chiude il manicomio e l'idea di chiudere il manicomio, la ebbe Basaglia all'inizio degli anni 60 quando per tutti sembrava un'idea folle, un'idea irrealizzabile, ma l'idea di Basaglia nasce proprio come questione economica prima ancora che come questione politica. Basaglia quando entra nel manicomio di Gorizia nel 61 rimane soprattutto colpito dalla povertà dei ricoverati, dalla situazione di povertà, povertà nel vestire, povertà in tutto ciò che riguardava la vita istituzionale e diciamo la prima denuncia che Basaglia fa nella psichiatria è quella di denunciare questa cosa, cioè che nel manicomio non ci sono tanto malati di mente quanto soprattutto ci sono persone povere, persone povere perché sono abbandonate dalla società, sono abbandonate dalla famiglia, vengono fatte sopravvivere in questi istituti. Quando nel 68, ed è un passaggio molto importante, Sergio Zavoli entra, un giornalista molto famoso che immagino ricorderete, entra nel manicomio di Gorizia con le telecamere, intervista Basaglia, intervista gli infermieri, intervista i pazienti e Basaglia cita un proverbio calabrese, lui dice, che è chi non ha non è. Questo è un po' il punto diciamo centrale dell'intervista fatta a Basaglia, per cui Basaglia dice sì la chiusura del manicomio è questione di cure, è questione di libertà, ma è soprattutto questione di dare possibilità, dare ricchezza, dare potere, dare lavoro soprattutto a questi pazienti, lavoro per arrivare al reddito. Quindi è un po' un capovolgimento della questione, il lavoro, il reddito come strumenti diciamo di uscita dal manicomio e di ritorno ad una dignità sociale. Gli fa ecco l'ultimo dei pazienti che viene intervistato in questo splendido documentario che è Open Access Online, quindi vi consiglio fortemente la visione, si intitola I giardini di Abele. Ecco l'ultimo paziente ad essere intervistato quasi riecheggia questo proverbio citato da Basaglia perché dice, beh uno nella società può parlare di arte, può parlare di poesia, erano le varie tecniche riabilitative che venivano usate anche nei manicomi di quel periodo, però se vuole essere preso sul serio deve parlare di denaro, deve parlare di lavoro, perché queste sono le cose serie della vita, sono le cose serie sulle quali si fonda diciamo così la vita di tutti. E allora ecco che fin dagli anni Sessanta, quindi fin da molto prima della legge 180, la questione è anche questione di inserimento al lavoro, questione di empowerment, come dicono in fondo gli anglosassoni, quindi di dare possibilità di ingaggio, dare potere alle persone. credo che questo sia importante perché dei vari aspetti della riforma italiana che è ancora unica nel mondo, se noi consideriamo tre aspetti, l'aspetto più propriamente di cura, quello più propriamente psichiatrico, l'aspetto più legato ai diritti civili, alla libertà e l'aspetto legato all'empowerment economico, alla possibilità di lavorare e di costruire del reddito, io credo che in questi 40 anni che ci separano da 78, sui primi due sono stati fatti effettivamente importanti passi avanti, possiamo dire che la legge abbia funzionato, l'elemento di criticità è stato il terzo, che è quello che poi peraltro motiva, credo, questo incontro tra noi e voi, è quello che forse immagino vi riguarda in modo più diretto. Ecco, è stato il terzo perché in effetti nella maggior parte delle regioni italiane, diciamo non in tutte, c'è stata la possibilità appunto di costruire libertà, pensiamo che i ricoveri obbligatori prima del 68 erano l'assoluta maggioranza, oggi siamo intorno al 5% dei ricoveri, quindi questo significa che il ricoveri psichiatrico è profondamente cambiato sotto il segno dei diritti civili. Sotto il piano anche delle cure sono stati fatti importanti passi avanti, il soggetto trova effettivamente opportunità molto maggiori di essere curato, di essere guarito, l'effetto patogeno dell'istituzione chiusa, del manicomio chiuso è venuto meno, oggi si cura sul territorio, nelle case e questo consente un grossissimo passo avanti, invece quando parliamo di opportunità di lavoro, quindi di partecipare all'economia nazionale, partecipare al PIL, partecipare alla produzione e di costruire del reddito per sé, troviamo l'elemento che è rimasto più zoppicante, credo dei tre pilastri diciamo sui quali la 180 doveva fondarsi per funzionare. Allora, dal punto di vista di uno che non ha neanche 30 anni, in realtà per la questione psichiatrica, ovviamente i miei due colleghi sono estremamente più competenti di me, quindi io tenderò ad analizzare il mio, cioè a spiegare il mio punto di vista più sulla questione della libertà della cura e la libertà di scelta, più che della libertà di scelta in strettamente in campo psichiatrico. Come anticipato dai colleghi, il 78 in generale quel periodo lì è stato un periodo di grandi cambiamenti per il tipo di riforme sanitarie e oltre per la questione psichiatrica in cui si è passati da una dicotomia salute mentale uguale pericolosità per la società, si è passati al problema di salute mentale e pericolosità per se stessi ed è per questo che sono stati chiusi i manicomi perché il malato psichiatrico è diventato una persona prima di tutto pericolosa per se stessa e che quindi deve anche avere il diritto però di scegliere se curarsi o meno e da qua poi sono partiti tutto quello che hanno detto i miei colleghi fino adesso, fra cui anche in alcuni casi dopo il 78 solo estremi in cui applicare il TSO. Però ci sono state importanti riforme anche in altri campi della sanità e riforme che ancora oggi non sono state concluse e di cui mi sento più competenti di parlare, come ad esempio il diritto a scegliere il proprio trattamento di fine vita, quindi anche questo rientra nella libertà di scelta perché così come il malato psichiatrico ha acquisito il diritto di scegliere se e come curarsi, sono partite importanti riflessioni sul diritto di porre termine alla propria vita oppure il diritto di porre termine alla propria gravidanza e tanti altri diritti di autodeterminazione della persona. Alcuni di essi anche sanciti costituzionalmente, infatti poi il legislatore nel 78 andò incontro alla Costituzione, approvando e modificando queste importanti leggi e introducendo queste importanti leggi. In quanto alla libertà di poter porre fine alla propria vita, abbiamo visto negli ultimi 15 anni importanti casi che sono anche arrivati, importanti casi mediatici come ad esempio Weber, Lenglaro e più recentemente DJ Fabo. In tutti questi casi alla persona è stato, dopo un lungo processo, è stato permesso di porre fine alla propria vita, alle proprie sofferenze, anche se si sono prefigurati, appunto vi ho portato questi tre esempi perché così si può notare un'importante differenza. Si è configurato in due casi, Lenglaro e Weber, la situazione in cui la persona era dipendente da macchinari e quindi si parlava di sospendere le cure, di sospendere la propria nutrizione artificiale e quindi di poter semplicemente morire naturalmente. Mentre invece nel caso ad esempio di DJ Fabo, il più recente, il ragazzo che è stato investito da una macchina ed è rimasto tetraplegic ed è stato accompagnato da Cappato in Svizzera, lui era completamente paralizzato, non riusciva né a muoversi né a vedere, però dal suo punto di vista quell'esistenza non veniva più incontro alle sue necessità di vita e dunque voleva porre fine alla propria vita. Però non poteva morire naturalmente perché non aveva bisogno di cure particolari, lui poteva alimentarsi, riusciva a respirare mentre ad esempio Weber che aveva la SLA non poteva respirare e quindi è stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato che per questo infatti ad oggi è stato accusato di assistenza al suicidio e infatti è in processo presso il Tribunale di Milano. Poi il Tribunale di Milano, a questo per farvi un attimo un recap della situazione. Il Tribunale di Milano ha chiesto alla consulta un parere costituzionale sulla faccenda per capire se Cappato può effettivamente essere incriminato di assistenza al suicidio o meno e adesso entro settembre il legislatore dovrebbe adattare la legge alla situazione altrimenti sarà la consulta stessa a prendere una decisione. Questo in realtà è un sasso che vi lancio poi per la parte successiva di dibattito perché mi piacerebbe ricevere domande, mi piacerebbe discutere con voi in realtà perché io potrei darvi la mia opinione, vi posso dare tranquillamente la mia opinione in merito però è secondo me più una cosa di scambio su quanto sia corretto, se è corretto secondo voi che una persona possa decidere autonomamente se porre fine alla propria vita e nel caso in cui la persona perde al diritto di autodeterminarsi ad esempio in caso di stato vegetativo perché ricordiamoci che un'altra importante differenza era che l'englaro ad esempio non poteva più esprimere, non poteva più autodeterminarsi in quanto in stato vegetativo mentre invece DJ Fab ad esempio poteva autodeterminarsi perché comunque era cosciente, era paralizzato ma cosciente. Quindi vi invito adesso nei prossimi minuti ad analizzare queste differenze cioè la situazione in cui una persona si lascia morire come englaro Weber oppure ha bisogno di un aiuto attivo per morire e cosa pensate nei due casi e poi la situazione in cui una persona non possa più autodeterminarsi poiché è incosciente oppure abbia ancora la capacità di autodeterminarsi e decide autonomamente di porre fine alla propria vita. Vi ricordo che in Italia ad oggi è un campo estremamente delicato in quanto la legislazione non è assolutamente netta, ci si può lasciar morire, cioè io posso decidere in questo momento di smettere di bere e di mangiare e nessun medico può forzarmi con un sondino a nutrirmi affinché io sopravviva, mentre in altri stati diversi, ad esempio in Svizzera, in Italia mi è permesso di morire di stenti diciamo, però non mi è permesso di scegliere l'eutanasia, io non posso attivamente farmi iniettare una serie di farmaci che pongano fino alla mia vita. Mentre invece in Svizzera questa cosa è possibile, difatti esistono le cliniche e mediamente all'anno 600 italiani decidono di andare in Svizzera per ricevere l'eutanasia, quindi comunque è un problema che esiste che riguarda la libertà di scelta. Allora io volevo dare, grazie Umberto, io volevo dare la parola a Fabrizio, ma gli è caduto, non c'è più Fabrizio, c'è tutta una bella sala di persone simpatiche, salutate, fate, ahi ciao, Fabrizio non c'è e quindi nell'attesa che Fabrizio torni è caduta la sua dell'ina, se fosse caduta la nostra non ci saremmo noi, sarebbe lì che gira e quindi evidentemente gli è caduta, sentivo dei rumori finché cercavo di comunicare con gli altri, non sto scrivendo all'amorosa quando scrivo sul cellulare, cerco di ascoltare ma devo purtroppo dire guardate che manca questo, guardate che manca quello, fra cui il live dalla sala 1 continuano a far finta che sia quello sul mezzogiorno che è finito mezz'ora fa, il titolo è sempre lo stesso, stanno discutendo d'altro con Marco Capatto. Allora, beh, nell'attesa che torni Fabrizio, ho visto che il tema alla fine si è girato anche su un aspetto cruciale, che è questo che è legato al TSO, l'autodeterminazione, la capacità dell'individuo che consideriamo malato, che si ritiene ammalato, di decidere se curarsi, non curarsi, da chi andare, cosa fare. Se ci pensate, questo ha molte sfaccettature, tutto molto attuale perché Umberto ha appena sollevato la questione dell'eutanasia eccetera eccetera, però un'altra ha avuto molto più, molta maggior visibilità nell'Italia degli anni recenti e c'è quella dei vaccini, anche lì da un certo punto di vista è una questione di autodeterminazione, io non mi voglio vaccinare contro XYZ, punto fine, oppure chi ha la patria potestà sull'infante decide che così è, è autodeterminazione anch'essa, tanto quanto, vado allo psichiatra perché mi sento leggermente schizofrenico stamattina, oppure mi infilo l'ago in vena e adio. Va bene, non lo so in che senso, lasciatevi fare la domanda globale, in che senso è lungo, perché c'è ovviamente un trade off, io lo vedo, personalmente vedo il trade off dell'economista che è palese nel caso dei vaccini, ma non lo è solo nel caso dei vaccini, nel caso dei vaccini è palese, il trade off dell'economista è fra l'autodeterminazione e l'esternalità, che è quella nel caso dei vaccini, delle malattie infettive, è cruciale, sì tu puoi prenderti tutti i vaioli che vuoi, tutti i morbilli che vuoi, per quanto mi riguarda, puoi anche appenderti al ramo più alto, peccato che se te lo prendi tu lo attacchi a me, ed io non ho nessuna intenzione di, e quindi noi la chiamiamo esternalità, cioè un effetto di un'azione tua che in teoria riguarda solo te, ma in realtà influenza in maniera diretta anche a me, quindi questo mi crea in una certa logica etica il diritto di intervenire sul tuo comportamento. Se ci pensate è meno esplicita, ma vale per il malato mentale, sì è vero tu non ritieni che il tuo strano urlare tutte le notte, le tre di notte, buttando i gatti dal sesto piano e non lo so, facendo cose strane perché ti senti Napoleone, sia un'espressione della tua libertà, peccato che il gatto era mio, il vaso che mi è arrivato in testa era la testa mia, tu ritieni di avere il diritto di porre fine alla tua vita, ma io ho un carico sentimentale, un investimento sentimentale valoriale nei confronti tuoi, un po' mi appartieni e quindi io mi, se ci pensate, certo sono gradazioni diverse, però il problema logico è lo stesso della relazione interpersonale, del fatto che non viviamo mai soli, viviamo sempre con qualcun altro in una maniera o nell'altra. Ecco, vi ripasso la palla, scegliete voi l'ordine in cui volete intervenire. Faccio il tappabuchi? No, no, nel senso, sì sì, ha detto che si sta riattivando. Ha detto che si sta riattivando. Sì, sono un po' preoccupato del fatto che la discussione sta prendendo come dire, l'ampiezza della genesi, insomma, più o meno, dobbiamo parlare del settimo giorno, Dio si riposò, insomma, un po' come mai Dio si riposò, stava bene, stava male, cosa sentiva in quel momento, che non si è visto... Perché si riposò, che cosa fece i giorni prima, esattamente, come provò l'efficacia, il giusto investimento di risorse, esatto, tutte queste cose qua. Stavo ascoltando appunto quello che diceva Rosso adesso e quello che dicevi anche tu e mi veniva un po' da sorridere, pensando che poi la psichiatria c'entra sempre dappertutto. È un po' appunto una sorta di dimensione alla quale poi è difficile, forse più che la psichiatria, che poi, insomma, è una forma effimera di una conoscenza che nel corso della storia si è appreso questo tipo di determinazione, ma in realtà, semplicemente, da inizio ottocento, fine settecento, ad oggi, noi non sappiamo se esisterà una psichiatria fra cent'anni e sicuramente sappiamo che prima ce n'era una diversa o non esisteva proprio, insomma, come dimensione e apparteneva ad altre pratiche, altri contesti della cura, eccetera, ma non è di questo che stiamo parlando, ma ecco, quella dimensione che è l'individuo cosa pensa, cosa vive, cosa soffre e, per utilizzare i termini che dicevi tu adesso, Michele, l'esperienza vissuta individuale da una parte e le regole dell'esterno dall'altra, questo impatto che porta sostanzialmente a un incrocio sempre, che è quello della competenza, cioè quando una persona è considerata meno competente. Allora, Michele, per fare un esempio, tira fuori questa iconografia del folle, che deve essere quello che fa cose strane, non è così, insomma. La questione, credo che la sofferenza, chi sta male comunque sta male in maniera molto diversa, certe volte esibita, esibitiva, ma più spesso nell'immaginazione delle persone, insomma, le persone che stanno male sono così, le persone che stanno male sono tutti, sono chiunque, chiunque può avere un'esperienza. I dati in realtà dicono, vabbè, insomma, non si può discutere finché si vuole, io personalmente tenerei anche a farlo, però, diciamo, il 40% delle persone nel corso della vita ha un'esperienza in cui la propria salute mentale è messa in discussione, in cui soffre in qualche modo. Quindi, lasciamo stare un po' queste iconografie. Certo che il fatto della competenza a decidere è una questione che riguarda, appunto, la qualità del rapporto fra individuo e contesto sociale, e Stato, e tutto quello che volete voi. Perché a un certo punto questo impatto ha in sé un germe, che è quello del controllo. Cioè, lo Stato deve controllare. E questo è uno dei problemi dell'identità stessa della psichiatria. La psichiatria nasce all'inizio dell'Ottocento, fine del Settecento, come atto di liberazione, portando dentro di sé la questione del controllo. Cioè, vive sostanzialmente questa sorta di antitesi fra un'affermazione, il diritto alla persona, alla libertà, Pinel, che libera i fogli dalle loro catene, come viene rappresentato in tutte le iconografie ottocentesche, ma nello stesso tempo ci sono i manicomi, ci sono i servizi, ci sono le persone che si devono occupare di altre persone. Allora, questa sorta di contraddizione fra libertà e controllo è un filo rosso che lega tutta la psichiatria. Se voi leggete tutti gli autori della psichiatria, tutti sono a favore dei sistemi, la stragrande maggioranza, a favore dei sistemi non restrittivi per la liberazione. Basaglia, appunto, fu uno che fondò la sua stessa idea della sua identità culturale, scientifica, professionale, sull'idea di libertà e di liberazione. Però esiste la questione appunto del controllo, che è un problema, che non si risolve semplicemente dicendo si abolisce il controllo, non c'è il controllo. E questa è una delle questioni profondamente legate alla competenza dei trattamenti senza consenso, che mi spiace correggere rosso, non c'entrano niente con la pericolosità, neanche verso se stessi. Oggi il trattamento senza consenso avviene a fronte dell'affermazione di un bisogno di trattamento e di un rifiuto della persona. E su questa assenza di consenso è lì che si potrebbe discutere molto. Perché una persona non dà il consenso ad essere curata rispetto a una cosa di cui avrebbe bisogno di essere curata, diciamo in generale. E' chiaro che questo, non voglio però portare via tempo agli altri, apre tutto un mondo sul quale è necessario molto riflettere. Cioè dove sta, che cosa genera, cosa si crea nella persona che in quel momento non dà il proprio consenso a fare qualcosa che è evidentemente utile alla sua salute. E questo potrebbe essere allargato a tutti i campi. Ma dalla salute mentale fino alla questione dei vaccini. Perché indiscutibilmente qualcosa che ha a che fare con questa zona grigia c'è e andrebbe in qualche maniera esplicitato. Non so se Fabrizio si sia ricollegato, mi pare di sì. Io volevo intervenire. Ciao Fabrizio, mi senti? Voi sentite lui? Ho qualche piccola distorsione di audio. Spero che a voi arrivi la mia voce. Bene, io starò così. Sono un fattoto, ma sono un uomo flessibile. Allora, tu non ti preoccupare, se per caso spunta il mio naso è perché sto cadendo. Allora, per permetterti anche di dire qualcosa, ho interrotto. Abbiamo coperto un po' sia l'origine della riforma da un lato del sistema psichiatrico italiano e poi del sistema sanitario, ricordando che avvennero a distanza in pochi mesi e poi dalla descrizione, che non ripeto, altrimenti consumo troppo tempo, di quello che avvenne, del ruolo di Basaglia, dell'interpretazione nel campo psichiatrico della libertà di scelta, eccetera, siamo passati. Umberto ha sollevato la questione dell'eutanasia e dell'autodeterminazione come altro esempio o fattore nel rapporto fra malato e curante e io allora ho detto, vabbè, in un certo senso tutto dal vaccino, l'esempio degli antivaxi, un altro esempio di soggetto che vuole autodeterminarsi e quindi parte del trattamento medico diventa una questione di come gestire l'esternalità. Ogni soggetto, quando compie un'azione nel campo sanitario e altri ha degli effetti anche su degli altri, il servizio sanitario pubblico in questo caso ma in generale è, come dire, il mediatore fra le due parti. A quel punto il tuo caro amico favoretto ha detto come al solito vuol dire farci parlare della genesi e di tutto e ha cercato di ricondurre l'argomento a un ambito più ristretto. Come vedi, ti ho servito un'insalata russa mica male vedi tu come te la cavi. Faccio innanzitutto una battuta su questo tema assai interessante, molto dibattuto e credo sul quale sarà difficile mettere la parola a fine della competenza psichica nelle persone che attraverso atti di autodeterminazione vogliono porre fine alla propria vita. Su questo chi è interessato troverà un mio lungo intervento sulla rivista di epidemiologia e psichiatria sociale invitato dal compianto professor Canzella nel quale sostanzialmente passavo in rassegna le evidenze a questo riguardo concludendo che si tratterebbe di un'ipocrisia quella di delegare ancora una volta alla psichiatria e magari alla visita di 15 minuti, di 20 minuti di uno psichiatra che non ha mai visto la persona non ne conosce la storia, le relazioni, il senso della vita delegare a questo psichiatra la decisione se quella richiesta sia basata su una consapevolezza una capacità, un pieno controllo del proprio potere decisionale è piuttosto un processo che va affrontato in maniera più allargata ma questo lo cito giusto per gli amanti dei riferimenti bibliografici e degli approfondimenti sul tema che non sono mai abbastanza tornando invece al tema della riforma psichiatrica e del sistema di cura per la salute mentale che si è sviluppato a partire da quella riforma io credo di poter usare una figura mitologica che ci possa fare da riferimento quella della chimera per molti ancora oggi a 40 anni dalla riforma per molti familiari, per molti utenti vedere attuati i principi di quella riforma è una chimera e questa è l'accezione un po' negativa che si dà a questo termine quella che invece vorrei utilizzare io è l'accezione biologica ossia un organismo che nasce dalla unione di patrimoni genetici di due organismi differenti perché se è vero che la salute mentale ha una componente medica come quella psichiatrica indubitabile è ancora più vero che la salute mentale si basa su una profonda conoscenza e interazione con il contesto sociale attraverso le funzioni psicologiche le quali pure è possibile intervenire attraverso determinate tecniche psicoterapiche del singolo, del gruppo e della comunità complessivamente il punto è che nonostante gli sforzi la salute mentale di comunità continua a essere l'assieme non adeguatamente mosaicizzato cioè non ha assunto una funzione unica di una componente sanitaria una componente psicologica e una componente sociale dove le componenti variano a seconda dell'inclinazione personale dei singoli operatori dei singoli servizi o addirittura delle singole regioni possiamo averne delle manifestazioni sono sotto gli occhi di lui allora qual è il punto su cui intervenire se questo è il problema occorre interrogarci su come far sì che da un mix che non riesce ad amalgamarsi appieno si possa aggiungere invece a una reale miscela che sia differente dalle componenti essenziali che noi chiamiamo salute mentale di comunità ci sono due possibilità per ottenere questo risultato possiamo intervenire a monte è stato più volte e ancora oggi nel dibattito politico sul welfare richiamata la necessità di unificare il governo e anche il bilancio delle politiche di welfare con le politiche sanitarie ponendo come riferimento i singoli e le comunità a cui questi appartengono come unità di misura e questo purtroppo però è un esercizio che pare estremamente difficile tant'è che tutti i governi ci sono cimentati ma nessuno c'è meglio l'altro aspetto è quello l'altra possibilità di intervento è quella a valle intervenire a valle per ricomporre la frattura esistente e strumenti come quello che certamente avrete sentito nominare quello del budget di salute ossia della misura di tutte le risorse economiche, sociali, personali, comunitarie, familiari eccetera che vengono messe in linea per perseguire un intervento riabilitativo individualizzato in una singola persona ecco questa è un'esperienza che abbiamo condotto in alcune regioni con grande successo Friuli, Venezia, Giulia nel nord e Campania nel sud anche qui a sottolineare che non si tratta di una misura come dire, dipendente dalla latitudine so che anche la regione Lombardia è molto interessata l'applicazione lo sta facendo in maniera sperimentale di questa misura io credo che questa possa essere una modalità per riaffermare i principi guida della legge 180 i principi guida che avevano a che fare con una comunità con una struttura della comunità di 40 anni fa molto differenti da quelli che sono rilevabili oggi applicare quei principi con i metodi di 40 anni fa sarebbe come continuare a scrivere le nostre relazioni con una bellissima lettera 24 della Olivetti senza utilizzare il correttore automatico che invece World ci consente grazie Fabrizio ecco ottimo stavo giusto dicendo allora tu riesci a sentirci? è arrivo molto distorto? allora io vorrei visto che faccio il moderato adesso ridò la palla Fabrizio ha sollevato una questione con questo esempio di metodologia che io non conosco quindi se uno di voi vuole utilizzare tre minuti per illustrarlo a chi ci ascolta meglio e poi permettetemi anche di stimolare un po' è una passione di tutti protestare sul servizio sanitario ora devo dire che una delle cose e lo faccio anch'io però vivendo negli Stati Uniti e avendo sperimentato quello mi sono negli anni convinto e ho anche dedicato del tempo a studiare il problema ma adesso non metto in mezzo la mia opinione che ve effettivamente qualcosa che funziona l'altra cosa che mi sembra funzioni specialmente se si confrontano tutti gli indici di benessere sanitario personale fra Italia e Stati Uniti ma anche fra altri paesi europei e Stati Uniti è a che fare con quello che menzionava Fabrizio vedete che c'è qualcosa comportamentale ci sono vari elementi sociali comportamentali che danno un vantaggio o che rendono il risultato finale della condizione sanitaria tipica dell'italiano molto superiore a quella per esempio del cittadino statunitense ecco se avete delle riflessioni su questo sia nell'ambito psichiatrico o in generale io credo che possono essere rilevanti non per mettermi a fare necessariamente positivo ma proprio per capire dove ci sono le cose fatte dove invece ci sono le cose non fatte e che hanno bisogno di essere aggiustate scegliete voi non so se Umberto o Gerardo lo avevo fate un po' voi sempre antipasto allora volevo scusami Gerardo direi che alle ultimi 20 minuti abbiamo ancora 15-16 minuti poi prendiamo qualche domanda sì allora prendo solo tre minuti perché Fabrizio non avevamo ancora citato il base di salute allora dico velocemente di cosa si tratta perché c'è un po' una coerenza in questo ragionamento come appunto diceva adesso Fabrizio fra quelli che sono i valori e la logica della riforma dell'assistenza psichiatrica e andare a inventarsi metodologie o modalità di sostegno ai percorsi terapeutici delle persone come questa proposta che appunto non è più una proposta ma è una sperimentazione allora che cosa è successo dopo la 180 che alcuni principi che poi anche in altri paesi erano affermati come per esempio quella della continuità terapeutica che detto così sembra un santissimo sacramento in realtà è solo il fatto che una persona quando si va a curare per qualcosa va dalle stesse persone va dallo stesso medico controva gli stessi infermieri trova le stesse persone allora questa cosa della continuità è un fatto estremamente vantaggioso se io sto male non è che devo raccontare ogni 50 persone diverse per 50 volte la mia storia questo per esempio è uno dei problemi che in parte in altri sistemi sanitari anche negli altri paesi si trovano allora la continuità terapeutica e la personalizzazione degli interventi chi ha pensato a questa sperimentazione a questa metodologia ha detto ma perché noi dobbiamo sempre pagare le prestazioni o dobbiamo pagare i luoghi o dobbiamo pagare le strutture quanto costa un paziente in comunità allora paghiamo la comunità quanto costa fare un intervento allora paghiamo questo intervento ma non immaginiamo che a fronte di un bisogno individualizzato legato anche a un tipo di problema che la persona può avere per esempio un problema di svolta mentale grave ma questo potrebbe in qualche maniera essere anche esteso esiste una disponibilità di risorse della comunità che sono legate alle sue risorse personali alle risorse personali che gli sono dovute a quelle che è possibile attivare per i servizi sociosanitari e fare un programma individualizzato finanziato con quelle risorse questo sostanzialmente molto in sintesi e molto banalmente è il principio del baggio di salute credo che questo vada in continuità Paolo ti passo la parola su quello che appunto è che sono i valori insomma la continuità terapeutica il fatto che ci sia la presa in carico concetto spesso poco come dire dato un po' per scontato presa in carico significa io vengo raccordato di un problema non è che mi dimentico del tuo problema io ho la responsabilità di darti una risposta complessiva globale sì ma mi piacerebbe appunto proseguire il ragionamento di Gerardo facendo riferimento a tre questioni che mi sembra che siano emerse nel nostro dibattito ecco la prima è possiamo essere soddisfatti di questo sistema per la salute mentale che veniva posta è chiaro che è una questione molto generale è difficile rispondere io credo che in qualche misura il nostro sistema di salute mentale per questi 40 anni ha dato buone prove e per questo merita di essere di continuare ad essere finanziato di continuare ad essere mantenuto perché naturalmente chi non ha non è vale anche non vale solo per le persone vale anche per i sistemi sanitari quindi le risorse sono indispensabili per poter funzionare c'è un aspetto però che è quello che accennavo già nel precedente intervento che è decisamente deludente cioè è quel quadro di interventi che nella scissione sanitaria e sociale che è sempre una scissione un po' artificiosa noi siamo più abituati a considerare all'interno del sociale ma il problema è che il sistema di salute mentale come sistema che appartiene fondamentalmente al sanitario non funziona se non esiste anche una gamba sociale che lo fa procedere ecco quindi l'aspetto carente mi pare che sia soprattutto lì opportunità di vita opportunità di lavoro opportunità di alloggio ecco è su questa gamba che la salute mentale zoppica è probabilmente necessario fare qualcosa di più e qualcosa di meglio questo si lega un po' al discorso che veniva accennato sistema sanitario italiano sistema sanitario americano io credo riprenderei e si lega anche a questa questione dei dei trattamenti e soprattutto ad esempio del trattamento di fine vita questo tipo di questioni perché prima veniva detto beh nelle cose bisogna considerare un aspetto di libertà e un aspetto di esternalità cioè le conseguenze che nella nostra libertà ha sugli altri io credo che quando noi parliamo di salute mentale dobbiamo considerare un terzo principio un terzo valore che entra con questi due che è un valore che nell'ottocento chiamavano di carità noi possiamo chiamare di solidarietà però il problema è questo se un soggetto senziente diciamo con capacità di giudizio rifiuta il vaccino certamente c'è il problema di rispettare la sua libertà e della conseguenza che questo può avere per gli altri ma se un soggetto paranoico con diagnosi di paranoia rifiuta il vaccino c'è alla base il problema se quel soggetto ha la capacità sufficiente che sostiene la libertà di accettare o di rifiutare il vaccino e quindi ecco che l'intervento diciamo della psichiatria nei confronti di questo soggetto non ha soltanto a che fare con un aspetto di controllo di comprensione della libertà di difesa dell'esternalità ma c'è anche un meccanismo per cui io presto la mia mente a quel soggetto la cui mente non funziona e non gli consente di decidere è chiaro che qui è tutto estremamente delicato perché io devo innanzitutto è difficile dire quando la mente cessa di essere libera e in secondo luogo nel mio intervento in qualche modo supplente io devo stare attento di non non fare un intervento che in qualche modo invade conculca la libertà dell'altro imponendogli quelli che sono invece i miei valori ecco tutto questo naturalmente ha a che fare anche con il problema che quando io dico un soggetto con diagnosi di paranoia non è un non è un meccanismo on off per cui uno o non è paranoico o è paranoico è un meccanismo continuativo per cui quanto quel soggetto è paranoico quanto il suo essere paranoico inficia la sua capacità di decidere quindi è tutto un meccanismo estremamente graduale allora è chiaro che se un soggetto ha una gamba rotta e non può alzarsi io gli presto il mio corpo perché si appoggi e si possa alzare ma è molto diverso se il soggetto ha la mente rotta per così dire e non può decidere e io gli presto la capacità di decidere è chiaro che qui è tutto estremamente più delicato ed è tutto estremamente più difficile credo che quindi il ragionamento anche dei trattamenti di fine vita delle scelte rispetto al suicidio per le persone che provano grande dolore eccetera che veniva a posto prima e anch'io su questo ho cercato di ragionare in una rubrica che tengo su Polite si chiama pensieri sparsi proprio in occasione del suicidio di DJ Fabo il problema diventa estremamente più complesso quando chi deve decidere se il dolore che si sta provando o se la disperazione che si sta provando perché si sta andando incontro alla morte è sopportabile o non è sopportabile è un soggetto con una diagnosi di depressione è chiaro che qua tutto diventa estremamente più difficile turba estremamente perché il rischio da un lato è di lasciare il soggetto in balia della propria malattia e dall'altro è imporre le nostre scelte a quelle che sono o che non possono essere scelte del soggetto quindi ecco questo elemento secondo me di carattere altruistico diciamo che è comunque uno dei valori nel campo e anche quello poi perché che ci porta credo a preferire probabilmente sistemi misti sistemi sanitari misti in cui c'è una parte diciamo di intervento economico del soggetto ma c'è anche una parte di solidarietà generale rispetto come veniva detto a sistemi economici sistemi sanitari nei quali diciamo ciascuno fa per sé io infatti voglio proprio tornare a parlare della questione dell'autodeterminazione della possibilità della capacità che abbiamo avuto di autodeterminarci staccandomi un po' di nuovo dall'ambito psichiatrico e raccogliendo le stoccate di Michele e quindi prendendo la questione dei vaccini la questione anche del tipo di sistema sanitario in cui ci troviamo in una visione molto alla obs della società alla fine la società è un patto fra i cittadini e lo Stato e lo Stato deve come detto prima esercitare un certo tipo di controllo per evitare che i cittadini tirino fuori la parte più lupo di sé e questo ci porta alla questione dei vaccini non vaccinarsi è una scelta molto egoistica perché non vaccinandomi io sì rischio di contrarre la malattia ma soprattutto rischio di farla contrarre alle fasce più deboli della popolazione ma il punto qual è? il punto è che io ad esempio personalmente sono favorevole all'eutanasia ma contrario alla libertà vaccinale quindi in realtà sono favorevole per lasciare alla persona la possibilità di autodeterminarsi in certi casi quindi trattamento di fine vita ma contrario a darle la possibilità di autodeterminarsi in altri come ad esempio la scelta vaccinale questo perché c'è secondo me un'importante differenza fra le due cose fra i due casi nel primo caso cioè che è il diverso prezzo che la scelta ha verso se stesso e verso la società nel primo caso quello di autodeterminarsi il peso di cui la società deve farsi carico di autodeterminarsi nel fine vita il peso della società che la società come dire deve sopportare è molto basso mentre quasi tutta la conseguenza della scelta finisce per ricadere sul singolo viceversa invece nel caso dei vaccini si ha un peso che ricade quasi interamente sulla società perché sì io non mi vaccino ok sono sano non ho nessun problema però magari tutti i leucemici con cui entro in contatto rischiano poi di prendersi il morbillo per colpa mia e inoltre lo Stato ha bisogno di decidere come legiferare nei diversi casi anche per tutelare i propri interessi che possono essere sicuramente la sopravvivenza e il benessere dei propri cittadini ma anche mantenere controllare come dire distribuire le risorse in modo efficace in modo che le risorse non finiscano un tema che tra l'altro oggi è abbastanza in voga emerge abbastanza emerge abbastanza perché le risorse stanno finendo anche in campo sanitario nel caso di trattamento di fine vita la persona sopporta quasi interamente da sé il peso della propria scelta perché muore mentre invece nel caso dei vaccini non vaccinandomi non è come viene detto normalmente che ah sì le case farmaceutiche prendono soldi prendono soldi in realtà è il contrario perché una persona che si ammala vale molto di più costa molto di più allo Stato rispetto a mille persone che si vaccinano questo perché un vaccino costa pochi euro una persona con una polmonita da morbillo ne costa decine di migliaia quindi oltre a un prezzo di tipo sociale io scelgo di porre fine alla mia vita e pago da solo oppure io non mi vaccino e voi vi ammalate c'è anche un prezzo di tipo economico perché se voi vi ammalate o mi ammalo io poi siete tutti voi a pagare per me ad esempio in questi giorni c'è una bambina in Veneto che ha preso il tetano purtroppo sta molto male e stiamo pagando tutti noi per le sue cure e sono migliaia e migliaia di euro al giorno e per la seconda stoccata di Michele cioè la questione fra il sistema sanitario statunitense e il sistema sanitario italiano consideriamo che in America avere un infarto costa bene o male sugli 80.000 euro 100.000 euro se vi fanno un angioplastica anche 120 partorire costa 7-9.000 euro e sono spese che ognuno si paga alla fine non si ha l'assicurazione o si tira fuori di tasca propria mentre in Italia sono spese che condividiamo tutti quanti avere un infarto in Italia è per lo più gratuito quindi scegliere di non vaccinarsi secondo me merita una limitazione maggiore dell'autodeterminazione perché la scelta di non vaccinarsi ricade enormemente sulla società molto poco su se stessi in realtà quasi sempre chi non si vaccina alla fine fa pagare altri non paga in prima persona quindi vi invito anche qua a riflettere sulla domanda che in realtà vi pongo io è quando è che lo Stato può esercitare la propria capacità di controllo sui cittadini obbligandoli ad effettuare alcune scelte e quando invece è soltanto diritto del singolo autodeterminarsi e prendere le proprie scelte per la propria salute grazie Umberto prima di dare il microfono alla sala vorrei sentire su queste questioni è vero che io posto svariate domande ma non è obbligatorio rispondere a tutte sono particolarmente interessato a capire proprio perché che cosa gli addetti ai lavori ritengano funzioni e che cosa ritengono non funzioni nello specifico del campo psichiatrico ma anche più in generale del sistema italiano quindi ridò il microfono nel senso che mi ringinocchio lo metto sotto l'altoparlante del mio computer e lascio Fabrizio parlare una delle questioni una delle questioni che funziona del nostro sistema complessivo sanitario e quindi anche della salute mentale è il suo universalismo e la sua tendenza a riparare quelle condizioni di disuguaglianza che sono insite nella natura umana cioè dare cose differenti a persone che sono differenti in ragione del loro differente bisogno una delle cose una delle cose che non funziona è che in realtà questo principio affermato in tutte le carte da quella fondamentale alle decisioni locali in realtà viene tradito quotidianamente e nella maggior parte dei casi in maniera in maniera poco poco chiara poco definita molto molto ipocrita lasciando cioè ai professionisti che sono sulla sulla frontiera la decisione di fare o non fare un esempio eclatante costituito dalla riduzione alla quale ci troviamo di fronte ormai da anni delle risorse umane in sanità qualcuno la vuole presentare come una situazione che è caduta dal cielo come un fulmine a ciel sereno in realtà io credo vi sia stata una precisa volontà di non fare programmazione per ridurre una popolazione di professionisti che evidentemente era considerata ridondante e comunque non era considerata utile per le finalità che ci si proponeva dall'altro ovviamente c'è il ruolo delle diciamo delle lobby che intendono privatizzare in tutto o in parte l'accesso ai servizi sanitari anche qui io vorrei far riferimento ai numerosi studi che condotti su questi temi ad esempio sui benefici che possono essere di cui possono essere titolari coloro che stipulano polizze sanitarie e che mostrano con chiarezza che questi benefici non sono funzionali al mantenimento di uno stato di buona salute anzi inducono un consumerismo sanitario con un uso non giustificato di risorse con una promuovendo anche sul piano culturale un'idea che basti fare la l'attack piuttosto che assumere la compressa per mantenere uno stato di vita sana non dimentichiamo mai che i principali più ampi progressi della medicina si sono ottenuti quando assieme allo sviluppo delle risorse tecnologiche mediche farmaci le strutture per le indagini di laboratorio o per immagini si sono accompagnate grosse riforme del modo di vivere condizioni cioè migliori di vita la medicina è andata avanti grazie anche alla scoperta dell'acqua calda la riduzione di mortalità nei paesi subsahariani è legata più che agli antibiotici al fatto di consentire loro di avere dell'acqua potabile grazie allora passo la parola alle domande sarò siccome ho una certa esperienza i dibattiti così i comizi sono proibiti la vostra opinione sono libere e estremamente apprezzate ma in particolare se ve le tenete per voi quindi domande vedo il compagno Andrea Moro venga qua faccia il bravo che così si fa filmare compagno di classe di studi di uffici di bevute prego Andrea Michele mi fai cosa stai parlando della differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia a me è venuta in mente una cosa io sono appena rientrato negli Stati Uniti ci ho vissuto 25 anni ho notato che negli ultimi 10-15 anni negli Stati Uniti è aumentata la consapevolezza delle differenze fra cos'è la malattia mentale e cos'è un difetto della personalità il disturbo è magari anche quello della malattia mentale però esiste un confine abbastanza labile e quello che ho notato io è che negli ultimi 10-15 anni ci sono diversi interventi nelle scuole negli atenei ma anche nel mondo del lavoro a aumentare la consapevolezza da parte della gente anche dei non malati ovviamente di queste differenze il che serve a diminuire lo stigma sociale e a evitare di esacerbare questi problemi dal fatto che la gente non vuole rivelare di essere malata mentre con l'Italia a me sembra che di queste cose non si parla proprio cioè negli Stati Uniti certamente questa cosa è limitata alle fasce sociali medio-alte nelle fasce sociali basse c'è questo problema adesso della dipendenza gli piace che vabbè è drammatico però almeno nelle fasce sociali diciamo in accademia nelle università e nel mondo del lavoro eccetera di queste cose si parla e ci cerca di sensibilizzare la gente adesso non so magari io sono io che non conosco la realtà italiana la domanda è per la parte americana è esatto a me pare fondamentale questo fatto che bisogna sensibilizzare la gente su queste differenze qualcuno vuole anzitutto non so vogliamo prendere ci sono altri ecco qua aspetta c'è la Fabrizio che aveva detto se posso aspetta questo per il pubblico e Fabrizio vorrà rispondere aspetta un attimo vai se ho compreso bene è stato posto in rilevo il fatto che nel sistema statunitense vi sia maggiore attenzione verso i temi dello stigma le campagne contro il pregiudizio io credo tanto per dirla in maniera transcian che il sistema statunitense per la salute mentale sia un esempio mondiale di come non si devono fare le cose tanto per intenderci vi faccio alcuni esempi che io ritengo assolutamente perniciosi la settorializzazione degli interventi anche in Italia c'è qualcuno che vorrebbe avere l'ambulatorio per l'ansia e tra le ansie il sottoambulatorio dell'ansia da attacchi di panico piuttosto che dell'ansia ossessiva piuttosto che dell'ansia non so è un po' come provare a equiparare la psichiatria alla chirurgia generale sapete che adesso abbiamo anche il chirurgo del mignolo della mano sinistra che stondisticamente guarda il suo collega che si occupa del mignolo della mano destra credo che questo livello di super specializzazione possa essere molto utile a chi la esercita ai professionisti così come è stato ampiamente dimostrato che il livello di uso di utilizzo di molte tecnologie farmacologiche che sono praticamente le uniche psichiatria per fortuna non usiamo macchinari chissà di quale livello tecnologico sono molto utili a chi li produce ma progressi reali a favore della salute delle persone in 30 anni di produzione ad esempio di psicofarmaci in realtà è veramente molto difficile individuare ok volete aggiungere qualcosa c'è opinioni dissenzienti è molto specifica quindi finiamo questo sì io sono d'accordo con quello che dice Fabrizio aggiungerei una cosa quando hai fatto la domanda ho subito pensato certamente le persone con i disturbi di personalità sono quelli che vanno dal medico privatamente che l'assicurazione paga i malattimentali sono quelli che vanno in manicomio quindi la determinazione non è nel contenuto del problema o nella qualità del problema sta semplicemente nelle dinamiche sociali che rendono un problema gestibile o meno gestibile la questione è purtroppo anche dell'influenza che questa produzione di conoscenze ha avuto sul nostro sistema nazionale no non si tratta di fare gli anti americani per forza è che su questo modello qua effettivamente purtroppo quel valore appunto del sistema universalistico e quindi di attenzione alle diseguaglianze perché le diseguaglianze ci sono e sono nella gravità del bisogno nella gravità della malattia nella gravità della condizione sociale ecco questo non c'è negli Stati Uniti qui in teoria c'è come valore nella pratica c'è molto poco siamo molto bravi in Italia a distillare diritti per cui se tu vai a leggere le carte i documenti le intenzioni i diritti sono strepitosi nel senso che una persona dovrebbe perlomeno avere quando vai in un pronto soccorso dei petali di rose della musica di Chopin che lo attende il medico sorridente l'infermiere che dice mi firmi il consenso informato adesso lo spieghiamo ecco nelle carte è scritto così nella pratica non succede allora si parla di disturbi mentali in Italia si fanno interventi nelle scuole eccetera in teoria sì in teoria in pratica non si fanno c'è tutto un movimento che riguarda però quella cosa che si chiama intervento precoce cioè identificare le persone che potrebbero sviluppare dei problemi di salute mentale beh che anche in Italia c'è voglio dire ci si sofferma certo è un problema di contesti di modalità di strumenti diciamo che c'è l'intenzione non spesso ci sono i fatti ecco però starei un po' attento a prendere appunto questa deriva molto molto specialistica perché anch'io sono d'accordo la psichiatria comunque ha un'anima generalista che dopo può definire degli interventi ma ha una sua struttura di fondo io ho tre domande la prima per l'economista se posso va bene io volevo sapere se era possibile rispiegare la questione del budget sanitario perché scusatemi io non sono la budget sanitario perché non sono riuscita a capirlo ho trovato ho cercato su Amazon il libro l'ho comprato ma non l'ho ancora letto se intanto potevate spiegarlo per favore e poi volevo chiedere ma non avete sentito la mancanza di un giurista oggi in questa conversazione nel senso il discorso che hai fatto è bellissimo e usare la ricaduta sugli altri su se stessi delle proprie scelte come parametro mi è piaciuto moltissimo però questo discorso come l'hai fatto tu sembra che cada in un contesto dove non dove stiamo reinventando la ruota mentre in realtà cade in un contesto dove c'è una costituzione una normativa un dibattito anche storico tra i giuristi per cui c'è un certo lavoro che è stato fatto anche da non medici per affrontare dal punto di vista giuridico etico filosofico queste questioni quindi mi chiedevo se non vi siete trovati un pochino in imbarazzo nel non avere un controcanto che vi dicesse la costituzione per esempio c'è stata la sentenza sulla legge Lorenzin la legge Lorenzin era una legge che aveva dei palesi profili di possibile incostituzionalità poi la corte costituzionale ha emesso sentenza e quindi ha tagliato sulla questione però magari avere qualcuno che vi accennasse o ne parlasse poteva arricchire il dibattito volevo sapere come siete sentiti voi rispetto a questa cosa la domanda di economia non la posso fare vado via perfetto l'ultima domanda era pure per me la prossima volta non chiameremo il giurista allora sulla parte invece medica prego la questione del budget sanitario quale parte non ho capito la domanda facciamo spiegare a Fabrizio 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 sembri essere delegato al budget sanitario sai tutto tu ho capito allora sintesi qual era la domanda esatto Fabrizio era se puoi rispiegare che fosse il budget sanitario perché ah ok voleva praticamente spiegare di nuovo il budget di salute il budget di salute è uno strumento tipico della integrazione socio-sanitaria che è una forma di ricomposizione delle attività sanitarie delle attività sociali previsto prevista dalla normativa italiana il budget di salute è uno strumento che focalizza l'attenzione su le risorse essenziali e necessarie al singolo progetto individuale e tenta di contrastare la tendenza alla massificazione degli interventi spacciati per socio-sanitari però non ho capito niente neanche io Fabrizio me lo spieghi ci faccia un disegnino i 60 i 60 anziani che si trovano nella struttura residenziale X e che vengono trattati appunto con una modalità che nessuno di noi quando sarà anziano preferirebbe sono un esempio altissimo di integrazione socio-sanitaria nel nostro paese i 60 soggetti con psicosi che sono piazzati nella struttura residenziale Y sono un altro esempio di intervento socio-sanitario tutto è governato da rette a persona tutto è governato da gare d'appalto che massificano i bisogni differenziati di queste persone alcuna attenzione viene posta nel utilizzare queste risorse per consentire alle persone stesse di rimanere nei propri contesti di vita sostenuti da attività interventi personale che abbiamo calcolato costano molto di meno di quando li si porta tutti in un casermone e si aspetta lì che terminino la loro esistenza mi sembra dati i tempi a disposizione io almeno ho capito ci sono altre domande al pubblico no che strano ho terrorizzato davvero tutti ecco qua ah Umberto voleva aggiungere qualcosa tenete quel microfono c'è il microfono vostro così lui ce l'ha subito si 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 mi sentite no 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 vedete le batterie vengono a cambiare le batterie per il prossimo dibattito sulla questione del percorso giuridico sì nel senso sono stati fatti grossi passi avanti ad esempio per citare un esempio proprio banale se è la questione della possibilità di autodeterminarsi o meno se io sono cosciente o meno nel caso di DJ Fabulo ad esempio poteva dire sì io voglio fare questo quello quell'altro nel caso dell'englari invece non poteva perché era era priva di coscienza quindi si va in questo caso contro il principio di uguaglianza perché se io entrambi stiamo malissimo entrambi stiamo soffrendo moltissimo entrambi io direttamente adesso con la mia voce lei magari con delle disposizioni di fine vita anticipate che ha fatto prima abbiamo espresso la nostra volontà di morire a me è molto più facile cioè per me che sono cosciente è molto più facile farlo perché posso chiedere a Marco Cappato di portarmi in Svizzera in una clinica mentre invece l'englari è completamente in balia delle persone coscienti attorno a sé e questo è stato un tema che è stato profondamente analizzato poco dal legislatore perché non siamo ancora arrivati in assoluzione molto da giuristi ed esperti del settore però nel senso in generale io col mio discorso volevo dare quella che era la mia opinione personale non quello che deve essere fatto quindi nel senso non mi sono sentito in imbarazzo non avere il giurista sicuramente avere un esperto legale in materia avrebbe aggiunto qualcosa come sempre aggiunge qualcosa avere persone competenti la mia però voleva essere il mio punto di vista liberissimo soprattutto per la mia età non ho l'arroganza bisogna fare così secondo me una curiosità io da questo incontro non ho ben capito una cosa se il malato mentale è una persona che ha proprio un problema a livello di funzionamento del cervello oppure può anche essere una persona che questa malattia la prende diciamo dal contesto in cui vive la malattia mentale è sempre dovuta a un disfunzionamento dell'organo cervello oppure può venire anche dall'esterno diciamo sì adesso te lo passo subito perché ci siamo saltati tutti e tre sulla sedia credo anche se sei sul computer probabilmente è saltato un po' il computer quanto tempo abbiamo? ma io ti dico solo una cosa molto semplice che non vuol dire che la malattia mentale non esiste ma per dire che il modo di interpretarla descriverla conoscerla e comprenderla è complesso che non vuol dire che non si c'è risposta vuol dire che bisogna studiare tanti elementi se tu vent'anni fa vedevi un signore che parlava da solo per strada dicevi senz'altro questa persona è matta se oggi vedi un signore che parla per strada da solo dice sta telefonando con l'auricolare ok comportamento uguale identico parla da solo per strada contesto completamente cambiato capacità di lettura del suo comportamento cambiate ha strumenti in più è malato non è malato e tutti quelli che parlano per strada sono malati una volta sì adesso no allora questo ti dà solo l'esempio di quanti fattori sia necessario tenere in considerazione quando si parla di che cosa è normale e che cosa è patologico di una cosa sono sicuro che non esiste nessun confine nessuna dogana e nessun passaporto che ti dice che tu sei normale e che l'altro è malato sì beh la domanda mi pare importante perché è un po' una delle domande eterne diciamo della medicina della psichiatria io credo che la malattia mentale la follia che la medicina è portata a leggere nei termini di malattia mentale dove sta beh dovrebbe dirlo il termine stesso sta nella mente questo è chiaro ma questo sposta semplicemente il problema perché poi la mente dove sta la mente sta nel corpo la mente è tutt'una col corpo allora quando diciamo la malattia mentale implica anche il cervello sì ma non è mai riducibile la malattia del cervello è qualcosa di diverso è qualche cosa di più ma poi il corpo dove sta il corpo sta nella società evidentemente e quindi è anche vero che la follia la malattia mentale sono fenomeni sociali socialmente influenzati socialmente determinati socialmente letti come diceva Gerardo ecco quindi credo che le cose che tu ponevi un po' come alternative in realtà sono tutte implicate in questo oggetto che rimane estremamente complesso nel quale certamente ha importanza la condizione del nostro corpo la condizione interna del nostro corpo in particolare del cervello certamente ha importanza la situazione la società la famiglia gli altri tra i quali viviamo e certamente ha importanza un qualcosa di terzo rispetto a queste due realtà che è quello che chiamiamo mente che è una serie di processi complessi che sono quelli che ci consentono adesso di parlare di ragionare di discute Fabrizio vuoi aggiungere qualcosa sul punto psichiatria anzi alla psichiatria transculturale forse forse Gerardo vi avrà detto che io sono napoletano ma vivo da diversi anni a Modena ecco se voi considerate una signora che canta squarciagola in vestaglia in pantofole sotto i portici di piazza grande dove c'è anche il comune di Modena voi individuate immediatamente una persona a rischio di un intervento di vigili urbani assistenti sociali psichiatri psicologi e quant'altro adesso spostatevi con la stessa persona nei quartieri spagnoli di Napoli si tratta semplicemente di una persona che sta comunicando i propri vissuti con altre persone magari anche loro in vestaglia questo per darvi l'idea che c'è una componente che è il vissuto individuale il vissuto individuale di sofferenza va sempre rispettato e deve avere la possibilità di essere accolto e raccolto ma poi c'è la lettura esterna che si dà ai comportamenti alle modalità con le quali ci esprimiamo e quella dipende esclusivamente dai valori normativi che come gruppo sociale noi ci diamo perfetto Umberto allora in una visione forse un po' materialistica noi polvereravamo polvereritorneremo quindi nel senso la malattia mentale sicuramente correggetemi se sbaglio deriva da una qualche forma di alterazione più o meno grave ma in generale dipende da una alterazione no però dipende dalla struttura del cervello perché con ogni nostro pensiero tutto qualunque cosa senza andare nell'alterazione infatti dipende sicuramente dalla nostra biologia da come siamo fatti come ogni nostro pensiero però la medicina si avvicina sempre ormai già da un po' è entrata in un modello biopsico sociale cioè sì sicuramente c'è una parte biologica oggettiva però sempre di più si sta entrando appunto nel vedere anche una dimensione psichica cioè come diceva il vissuto del soggetto ma soprattutto sociale cioè il contesto in cui la biologia e il vissuto del soggetto vengono contestualizzati quindi secondo me la risposta alla domanda è proprio questo termine cioè biopsico sociale non è la semplice biologia che ti porta un'alterazione alla malattia non dipende solo da quello ma dipende sia poi dal tuo vissuto personale sia dalla società in cui vivi in cui sei contestualizzato sono tentatissimo a dire la mia ma me ne sto zitto la dirò nel prossimo video con Gerardo qualcun altro ha delle domande? c'è pure tornato il microfono carico Carlo? c'ha la pilla buona? grazie Carlo molto gentile allora prego abbiamo in tutto direi io sono un po' rigido gli altri stanno andando lunghi ma io credo che sia ragionevole avere una pausa anche un minimo non te li magna a tutti dunque la mia domanda era da quanto mi hai perso di capire dalla vostra esposizione a un certo punto se c'è una patologia psiche di un qualche tipo diventa più o meno necessario per lo psicologo comunque per chi sta trattando il paziente dover limitare la sua libertà in quanto si assume che lui non sia più in grado di compiere le sue decisioni diciamo in maniera consapevole e quindi appunto non si può più dire ok tu sei consapevole e quindi ti do la libertà di decidere per te devo intervenire io limitartela per il tuo bene quindi possiamo dire che la mancanza della libertà o comunque la compressione della libertà sia connaturata a uno stato di o necessario connaturata a uno stato di alterazione psichica questo perché l'idea di comprimere la libertà di una persona è una cosa che a me ovviamente dà molto fastidio mi rendo conto che però possa essere necessario quindi no non è sempre necessario questo è proprio il problema cioè il fatto di soffrire di un disturbo psichico non compromette di per sé la libertà del soggetto la consapevolezza della libertà di decidere ci sono livelli situazioni oltre i quali queste possibilità sono compromesse e il problema centrale uno dei problemi centrali della della psichiatria è proprio quello di valutare quali sono queste situazioni minoritarie mi viene da dire nelle quali c'è effettivamente una compromissione pesante della libertà e quali sono quelle invece nelle quali non c'è non c'è questa compromissione importante vorrei anche dire che naturalmente le decisioni la libertà di ciascuno di noi se la consideriamo al di fuori di un aspetto così ideale che prescinda dalla nostra salute dal nostro corpo da ogni alta considerazione di carattere medico la libertà di ciascuno di noi è sempre condizionata naturalmente dal nostro umore di quella giornata dalla situazione intorno a noi dalla nostra educazione ecco quindi una libertà pura in senso astratto non esiste è chiaro che quando gli elementi di sofferenza di disfunzionamento dei nostri processi mentali sono tali da compromettere la nostra libertà è necessario probabilmente che qualcuno assuma una decisione per noi ma quando avviene questo va valutato caso per caso è una valutazione estremamente difficile provo a spiegare la cosa con un esempio ci pensavo mentre parlava Paolo Mario e Maria sono a casa stanno facendo baruffa sono due coniugi stanno insieme da molto tempo e come spesso accade sono stufi uno dell'altro stanno facendo una baruffa molto vistosa si arrabbiano si urlano a un certo punto Mario prende un piatto lo spacca per terra prende un coltello dice va non ti posso più vedere insomma c'è una situazione estremamente animata Maria siamo nel 1920 va dal suo medico dice o anche nel 1950 va dal suo medico dice Mario mi ha puntato un coltello contro allora il medico scrive è pericoloso perché ha puntato un coltello contro per gli altri forse per sé quindi va ricoverato in manicomio e questo succedeva sistematicamente per tutti cioè chiunque andasse a riportare una situazione di questo tipo anche attraverso la mediazione di un medico otteneva poi che la persona fosse ricoverata in manicomio dopo non siamo più nel 1950 succede dopo uno dice vabbè cosa è successo ma stavamo facendo baruffa e come mai ha preso ci va a parlare gli chiede ma come mai ha preso il coltello ma ce l'avevo in mano in quel momento non capivo cosa stavo facendo c'è stata una discussione ma lei prende spesso in mano il coltello no mi è successo quel giorno c'era una baruffa veramente molto grave ce ne siamo detti tutti i colori anche lei prima mi aveva tirato dietro un piatto ma non mi aveva preso insomma si capisce che sta baruffa ha avuto dei caratteri un po' partenopei tanto per citare Fabrizio prima ma sostanzialmente era una baruffa allora dice vabbè insomma vediamo vediamo di cosa avete bisogno insomma lasciamo stare la risposta certo non obbliga il povero Mario a ricoverarsi in un servizio psichiatrico va a parlare con Mario e dice no sì sì è vero ho tirato fuori il coltello è vero però però c'è stata c'è stata una voce che continua a dirmi devi fare qualcosa contro di lei perché non è possibile lei fa parte di un complotto ti stanno rinacciando eccetera allora comincia a pensare chi ci parla comincia a pensare che Mario stia male che forse deve curarsi forse ha bisogno e allora cosa fa gli dice guarda è meglio che ti curi non perché hai preso il coltello e hai tirato il piatto ma perché stai male e questo star male è questa voce che senti l'idea che pensi che tua moglie e Maria sia parte di un complotto contro di te capisci cosa è cambiato fra una situazione e l'altra nella prima si giudicava sulla base del comportamento e che il fatto che questo comportamento potesse essere pericoloso e problematico senza poi tutto sommato andare a vedere la ragione perché era pericoloso e problematico quello che cambia è si deve ripeto la legge dice chiaramente devi certificare perché quella persona ha un problema che tipo di problema ha e perché non vuole questo ha risolto tutto non ha risolto tutto ci sono delle zone grigie come diceva adesso Paolo imporre qualcosa a qualcuno è sempre una cosa estremamente difficile delicata e dovrebbe essere molto sicuro della tua valutazione ma insomma l'esempio è tanto per capire che cosa può essere cambiato da prima o dopo insomma io vorrei lasciarmi vorrei lasciarmi andare avanti parecchio ma devo devo svolgere il mio compito quindi comincio Fabrizio che è qua bellissimo Fabrizio ti ringrazio mi ha fatto piacere conoscerti virtualmente magari ci conosciamo una volta anche non virtualmente grazie ai panelist e grazie a voi tutti adesso c'è la pausa la cosa metteremo il video in rete appena lo carichiamo insomma domani appena c'è un attimo di respiro beh questa attenzione io vorrei dire una cosa la faccio qui abbiamo quattro panelist offro a tutti e quattro ovviamente con Gerardo un rapporto più stretto come sapete ma visto che andiamo costruendo un canale più ampio dopo questa esperienza visto che c'è domanda di discussione conversazioni informazioni serie a questo paese io se uno di voi o assieme volete prendervi la rubrica settimanale salute mentale medicina ciccio bello le storie Mario e Maria a questo punto lo chiameremo il canale Mario e Maria in onore a oppure della signora in Modena che canta in vestaglia e siete benvenuti quindi poi le mie chiacchierate con Gerardo magari ce le facciamo senza registrarle grazie ciao grazie 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 grazie